La Catedral. Avete mai sentito parlare della Catedral? Probabilmente sì se siete dei fans della serie TV Narcos, la quale ha dato grande notorietà ad un personaggio del passato, Pablo Escobar. La Catedral era infatti la prigione fatta costruire dal famoso trafficante di droga Pablo Escobar, quando nel 1991 decise di consegnarsi alle autorità colombiane per evitare l'estradizione in America. La Catedral però non era una prigione qualunque, ma si trattava di un carcere di lusso fatto costruire su misura per soddisfare tutti i desideri di Escobar. La Catedral era una sorta di fortezza che teneva Pablo Escobar al sicuro dai suoi nemici. Qui Pablo continuava a gestire i suoi traffici, grazie anche ad altri detenuti di fiducia, tutti i suoi uomini scelti, rinchiusi nella Catedral con il solo scopo di proteggerlo e di servirlo. Nella Catedral c'era ogni sorta di confort, lussuose camere private, tavoli da biliardo, la palestra, e persino un campo di calcio, nel quale Escobar invitò la nazionale di calcio colombiana a giocare una partita. Ed ovviamente alla Catedral non mancavano mai prostitute, alcol e droga. La polizia aveva l'ordine di stare lontana dalla Catedral, e c'era anche il divieto di volo sopra di essa. Ovviamente Pablo Escobar, che ufficialmente doveva stare rinchiuso lì dentro, usciva ed entrava di prigione quando voleva. Escobar fu infatti visto più volte fuori di prigione, in giro per Medellina a fare shopping, ed addirittura come spettatore a delle partite di calcio. Pablo Escobar, avrebbe dovuto scontare 5 anni rinchiuso nella sua lussuosa prigione la Catedral, ma quando tirò troppo la corda, il governo colombiano fu costretto a rompere l'accordo con lui. Escobar infatti, uccise e fece sparire alcuni suoi collaboratori spacciatori che erano andati a trovarlo, e questa fu la goccia che fece traboccare il vaso. Il governo colombiano decise dunque di prelevare Pablo Escobar dalla sua prigione di lusso, ma questi riuscì inspiegabilmente a scappare. E non ho altro da aggiungere su questa storia, CIT.